Antonino sta con Luna e le ha fatto anche i capelli ma quanto è bella con i capelli lisci e si diverte tantissimo con lui se vuoi un gelato alla fragola va bene con loro c'è anche la cagnolina Mascia e c'è anche nonna Anna e lei vuole tanto il gelato e Antonino l'accontenta